siamo stati lontani e siamo stati in silenzio perché un nemico invisibile ha stravolto le nostre abitudini e le nostre vite oggi però abbiamo deciso di stringerci in un grande abbraccio virtuale per dare un messaggio di speranza a tutti voi e lo facciamo con la nostra musica dando nuovamente vita ai nostri strumenti attraverso una melodia che è un ino al creato dolce sentire la dedichiamo a tutti voi ea tutte le persone che in questi mesi ci hanno lasciato perché la musica non ha confini e può arrivare oltre le nuvole dove splende un bellissimo sole grazie a tutti 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 grazie a tutti